Florinas sorge nella valle di Codrungianus, nei pressi del monte Figulinas. Ubicata fin dalle sue origini in una felice posizione di transito per gli scambi tra il sud e il nord dell'isola, la cittadina è un centro testimone di fiorenti traffici, sviluppatisi anche per l'impegno dei monaci benedettini, che con successo contribuirono alla bonifica dell'intero territorio nel primo Medioevo. A Florinas si svolgono tradizionali feste religiose e numerosi eventi durante l'arco dell'estate. Importante ruolo nel recupero della tradizione svolge il gruppo folk Figulinas, che ha lo scopo di valorizzare e salvaguardare la cultura popolare della Sardegna, dell'Ogudoro e di Florinas in particolare. Il paese ha, nelle semplici facciate in tufo calcareo di alcuni edifici, tratti interessanti di uno stile architettonico che influenzò tutto il 1800. Florinas fu densamente abitata già nell'antichità tra metà 800 e primo 900. In questo periodo numerosi scavi riportarono alla luce tracce di oltre 30 nuraghi e di una decina di domus dei Anas ed una tomba di giganti. Oggi l'economia locale è dedita all'allevamento ovino.